Ciao Don, grazie di tutto, ci mancherai ma soprattutto ci mancherà la tua preghiera del mattino. Grazie a tutti! A nome del cinematografo vogliamo ringraziarti per l'operato e il supporto che ci ha sempre dato. Ti ringraziamo e ti auguriamo buon proseguimento. Ciao Don! Le parole che sto per dirti sono molto difficili da dire ma devono essere dette. Sono 11 anni che aspettiamo che te ne vai fuori dalle balle e l'eraura, no? Ciao Don Massimo, ricordati di noi e ti vogliamo tanto bene, mi raccomando, c'è sempre nei nostri cuori. Ciao! Ciao Don! Ciao Don! Ciao! 3, 2, 1, via! La porteremo sempre nel cuore, Don! Ciao Don! Mi è giunta voce che purtroppo parti e niente, io purtroppo non ci sono per salutarti di persona, perciò volevo farti tutti gli auguri possibili e spero di rivederti. Un bocca al lupo, Don! Per tutto quello che hai fatto, per avermi reso una persona migliore, ma anche per aver condiviso dei bellissimi momenti, sia con i giovani che con il gruppo Ricchirichetti che adesso ringrazierà. Ciao Don Massimo! Ciao Don Massimo, volevo ringraziarti per tutte le cose che ci hai fatto imparare su Gesù. Tu mi mancherai tanto e per questo spero che ti divertirai nel tuo nuovo paese. Ciao Don Massimo, grazie per averci sostenuto in questi dieci anni e per averci fatto capire che ci stiamo con una lampadina al cielo e che stiamo connessi con Gesù. Ciao Don Massimo, ti ringrazio per tutti questi dieci anni bellissimi e per avermi insegnato ad amare di più Gesù. Ciao Don Massimo, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Sei stato un bellissimo giorno, grazie. Ciao Don Massimo, volevo ringraziarti per il sostegno che ci hai dato in questo cammino. Ci hai aiutato a conoscere e ad amare Gesù. Noi ti ringraziamo Don Massimo. Ciao Don Massimo! Ciao Don Massimo, io ti ringrazio per averci accompagnato fino a qua. Ciao Don Massimo, io ti ringrazio perché quando ci sentivano giù, vedevamo a correre e ci salutavi e ci faccio ritornare sempre al sorriso. Ciao! Ciao Don Massimo, mi mancheranno tutte le volte che la vedevo a passare correndo davanti a casa mia. Ciao Don Massimo, ti ringraziamo per lo sforzo che hai fatto. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato e ti farai sempre nei nostri cuori. Ciao Don Massimo! Ciao Don Massimo, ti auguro buona fortuna e grazie per tutte le cose che hai fatto con noi. Caro Don Massimo, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi e ti auguro buona fortuna. Uno, due, tre... Ciao Don Massimo! Ciao Don, ci mancherai tantissimo. Auguri per la tua nuova missione. A presto Don. Ciao! Ciao! Ciao Don, a nome del gruppo Animazione Giochi vogliamo ringraziarti per averci sempre sostenuto. Per averci sempre accompagnato in tutti questi anni e per essere stato, oltre che un Don, un amico speciale. Sei stato un compagno prezzoso di avventure e di risate ed è per questo che non ti dimenticheremo mai. Speriamo di rivederci presto. Ciao Don, ci mancherai tantissimo! Ciao Don, il nostro gruppo voleva farti un video di saluto personale nel palabusco, ma a causa del coronavirus siamo costretti a rinunciare a questo. Comunque Don, è arrivato veramente il momento di salutarti. Sappiamo che un prete deve andare e non restare. Grazie di tutto di averci appoggiato, sopportato, amato, coccolato in questi anni passati in mezzo a noi. Tante le serate passate insieme nel palabusco, ridendo, scherzando, ballando e mangiando. Un grosso rivederci, tu organizza che noi veniamo a ballare da te. Ciao Don! Ciao Don! Ti ringraziamo per quello che hai fatto qui a Pontoglio, per la nostra comunità. E per l'esperienza che ci hai permesso di vivere. Un forte abbraccio. E un grande in bocca al lupo. Ciao! Ciao! Ciao Don! Grazie di tutto! In bocca al lupo! Buon viaggio! Ci mancherai! Ciao! Ciao Don, ti faccio l'in bocca al lupo per il proseguimento della tua vita e ti ringrazio per tutti questi anni insieme. Ciao Don Massimo, il gruppo volontari Santa Maria Assunta ti saluta, ti ringrazia e ti dà una buona continuazione per la tua nuova missione pastorale. Ciao! Ciao Don, ci mancherai tanto! Ciao Don, ci mancherai tanto! Ciao! Ciao Don Massimo, ci mancherai tanto! Grazie da tutti noi di tutto! Ciao! 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 Allora, caro Massimo, i tuoi alpini sono qui, come vedi, a salutarti. Ci spiace che tu vada via. Siamo felici per quelli che ti riceveranno là perché tu hai due grandi prerogative che ti proteggono. Una è il Santissimo che tu preghi giorno sì, giorno no, di notte, sempre. E l'altro è la penna degli alpini. Quindi, che cosa puoi volere di più? Noi ti vorremmo sempre bene. Ciao Massimo! Ciao Massimo! Buon Natino! Buon Natino! Buon Natino! Ciao Don, dieci secondi per salutarti, per una come me asciutta di parole. Sono veramente una disperazione. Volevo ringraziarti e volevo augurarti che nella nuova comunità di Carpenidolo tu riesca ad entrare nei cuori della gente, come hai fatto a Pontoglio, con la tua semplicità e con il tuo sorriso disarmante. E che tu riesca a trovare all'interno di questa comunità delle tardone come noi, che ti adottino come fratello e che ogni tanto ti tirano le orecchie quando te lo meriti. Un bacione! Ciao Don, ti vogliamo ringraziare per tutto quello che ti ha fatto. Ciao Don, ti vogliamo ringraziare per tutto quello che hai fatto per noi in questi undici anni. E volevamo augurarti una buona continuazione per questa nuova esperienza. Ti vogliamo bene, Laura e Alessia. Ciao Don, grazie di tutto. In bocca al lupo per la tua nuova avventura. Ciao! Ciao Don, grazie per l'amore che ci hai donato. Sarai sempre nei nostri cuori. Un abbraccio da tutto il gruppo missionario. Ciao! Ciao! Ciao Don Massimo! Volevamo ringraziarti per il tempo che hai passato con noi e per il tuo esempio. Un grosso in bocca al lupo per la tua nuova missione e che dire, ci mancherai! Ciao! Ciao! Ciao Don! Ciao Don! Ti ringraziamo per tutti questi anni passati insieme, grazie di tutto e una buona avventura che facciamo, soprattutto alla famiglia Rodolfi. Ciao Don! Ciao Don, ci mancheranno tanti i tuoi bracci stritolanti. Ciao! Grazie di tutto Don, auguri per la tua nuova avventura. Ciao! Ciao Don, è stato un piacere averti a Pontoglio. In bocca al lupo per la tua nuova avventura. Ci mancherai a tutti. Torna a trovarsi quando puoi. 3, 2, 1, vai! Ciao Don, ci hai conosciuto che eravamo genitori giovani e belli e noi poco più bambini. Noi ti salutiamo da genitori un po' più maturi, sempre belli naturalmente e... E noi da giovani di cuore e questo è anche merito tuo. Ciao Massimo! Ti vogliamo bene! Ciao Alpino! Buono Alpino! Ciao Alande! Don Massimo, sei arrivato e ci hai regalato il tuo strumento, quindi venivi già da una realtà bandistica. Ci hai sempre appoggiato, sei sempre stato vicino a noi. Noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e ti auguriamo che la tua nuova avventura sia più bella di quella che hai vissuto con noi. Ciao Massimo! Grazie! Ciao Don! Sì, non mi sembra ancora vero che vai via. Mi dispiace un sacco e so che mi mancherai tantissimo perché alla fine sono entrate in oratorio quando ci sei stato tu e niente, sei stata una figura importante, ma anche un grande amico. Mi mancherai un sacco Don, ti voglio un mondo di bene, però dai ci vedremo ancora, non vai in Uruguay, quindi ci vedremo sicuramente. Niente, un bacione, ti voglio un sacco, un sacco, un sacco bene Don. Grazie a te! Ciao! 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 Va bene! Madre Teresa diceva che non tutti possono fare cose grandi, ma tutti possono fare cose piccole con grande amore. Grazie a Don per tutte le cose che hai fatto con grande amore per la nostra comunità. Ciao Don, grazie ancora e speriamo di non perderci di vista. Ciao! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Addio, addio, amici, addio, addio! Noi dobbiamo lasciare! Ma ei, io dico che è ok! Non mi scelgo l'abito! Ma di ritornare! Ciao Don Massimo! Ciao Don Massimo! Grazie di tutto! Buon cammino! Ciao da Beppe, Elisa e la piccola Bea! Ciao! 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 Donno 10 secondi per cui dal posto dove lei passa sempre a camminare volevamo augurargli una buona fortuna per un nuovo lavoro Ciao Don Massimo ci mancherai tanto Altro che tanto ci vediamo prima di partire poi Ti abbracciavo Ciao Don Ciao Don Grazie per tutto quello che hai fatto per noi In bocca al lupo per il tuo nuovo cammino Ciao Ci hai visto nascere e crescere Ci hai visto invecchiare Purtroppo ci dobbiamo salutare Ma ti vedevo a trovare Ciao Don Ciao Don Ciao Don Ciao Don C'è tu signor che passa proprio qui Ciao Don Ciao Don Ma soprattutto volevamo ringraziarti per averci sempre supportato nelle nostre folle idee Ti salutiamo come tu hai sempre fatto Ciao Don Ciao Don Ciao Don Ciao Don Soprattutto le nuove generazioni dove tu hai dato educazione e amore Ti auguriamo ogni bene e qualsiasi cosa ti vada bene nel nuovo paese in cui andrai Auguri Don Massimo Ciao Don Ciao Don Ciao Don Ciao Don Ciao Grazie Don Massimo per tutto Ottimo Ti voglio tanto bene Ti voglio tanto bene Grazie Dopo un lungo viaggio sono arrivato a Carpenidola Soprattutto Ah è stata dura Lontanissimo a Carpenidola da qui a Caspia Non pensavo così tanto Niente Sono arrivato qui per dirti caro Massimo Che sono contento che tu te ne vada Perché mi avevi già rotto No niente Che mi spiace molto che tu te ne vada davvero Le mie vie non sono le vostre vie Ci dice il Signore E quindi le mie vie tante volte guardano solo ai nostri interessi Le vie del Signore guardano il nostro bene Quindi ti auguro di fare tanto tanto bene Come hai fatto qui a Pontorio In mezzo ai tuoi ragazzi Nell'oratorio Ti auguro che anche a Carpenidola Riscoprano la bellezza della tua presenza La tua bontà Il tuo grande cuore Ti auguro tanto 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 bene E che la benedizione del Signore sia sempre con te Ciao Buona strada Tu, 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 tu Grazie a tutti. Grazie a tutti.